Un mini tour per le vie della città, un percorso in bicicletta lungo le principali ciclostazioni go bike dislocate a Siracusa da piazza Santa Lucia sino in Ortigia per mantenere viva l'attenzione sul problema sospensione del servizio go bike per ricordare che ancora moltissime bici praticamente la quasi totalità giacciono inutilizzate e soprattutto in totale deterioramento nei depositi. A questo punto l'iniziativa dell'associazione Natura Sicula ci spiega i dettagli. Fabio Fazzina. L'idea nasce allo scopo di ricordare all'assessore Basile l'impegno che ha assunto davanti alle telecamere di Striscia alla Notizia non più tardi di un mese fa. L'assessore Basile ha promesso che entro la fine dell'anno il servizio go bike sarà riattivato a Siracusa. Noi abbiamo serie fondate ragioni per dubitare che questa promessa sarà mantenuta. L'iniziativa ha lo scopo appunto di ricordare all'assessore Basile questo e di sollecitare il suo impegno affinché questa promessa venga effettivamente mantenuta e che Siracusa possa riavere un servizio go bike efficiente. Insomma i Siracusani hanno accolto bene questa vostra proposta. Sì, devo dire che insomma il numero dei partecipanti è confortante. Noi avevamo preventivato un 30 persone. Credo che siamo intorno ai 40-50 partecipanti. Quindi questo ci fa piacere. Insomma, fra poco inizieremo questa passeggiata. Grazie a tutti.